Ciao a tutti amiche e amici e bentornati e bentrovati nel canale di mamma formiga e Cigiolino. Oggi un video diverso dal solito. Vieni qua Cigiolino, saluto dai. Ciao. Noi frattempo lui sbusta le figurine, poi vi posteremo il video dell'unboxing dell'album che abbiamo fatto qualche giorno fa. Oggi vi farò un altro video unboxing. Sono andata in edicola e ho trovato un giornale con il regalo, una palette di ombretti della Ensense. Il giornale è Silhouette Donna e all'interno c'è una palette con 9 ombretti opachi e metal. Adesso andiamo a fare l'unboxing. Allora ragazze oggi siamo andati in edicola con Nicolò, lui ha comprato le figurine dei calciatori e vi ho comprato una rivista. All'interno di questa rivista ho trovato una palette di ombretti della Essense, G-Day Sydney. Questa palette fa parte di una serie di palettes che sono ispirate a delle città del mondo. Questa è ispirata a Sydney, poi vi faccio vedere che ce ne sono altre ispirate a Bangkok, Parigi e Berlino. Questa palette contiene 9 colori, colori caldi e colori freddi. sono colori che io uso pochissimo però mi cercherò di sbizzarrirmi. Era da tanto che volevo comprarmi una palette e ho trovato questa occasione in edicola con 3,90 euro. Spero di aver fatto un affare e questi colori colorano. Allora, cosa dirvi di questa palette? Abbiamo come coloro azzurro, un verde, un blu, un marrone, un verde acqua, sembra blu. Poi abbiamo delle nuanze di rosa che vanno sempre più a scurire. Adesso faccio un make up su di me e vediamo cosa viene fuori. Proverò a truccarmi io. Nicolo, che fai tu? Fai l'unboxing delle figurine? Sì, ti faccio mostrare una bustina. Chi è Salmo, Nicolo? Un cantante. Cantante? Sì. Ah, già vero, mi ero dimenticata. Anche Alberto Urso. Ah, questa bustina è tutta i cantanti. Ok, ritorniamo alla nostra recensione. Eccomi qua. Adesso faremo questo mio primo video beauty. Che io non ho molta dimistichezza nello spiegare il make up. Mi trucco ogni tanto, ma non... Ecco la bustina che sta arrivando. Eccola. Aiii. Su potere ufficiale, ma non come fanno le make up artist. Io mi trucco come i capi. Quindi oggi sono andata in edicolo, come vi dicevo, e ho trovato la rivista Silhouette Donna, con in omaggio la palette Essence con nove ombretti. Questa palette si chiama G-Day Sydney e fa parte di una serie di palette ispirate alle grandi città del mondo. E all'interno di questa palette troviamo nove colori. colori caldi e freddi e freddi e possiamo utilizzarli per valorizzare il nostro sguardo. Vi dice... Swipe up! Swipe up! Il primo... Non si vede... Poi abbiamo questo un po' più scuro... Il terzo... Si vedono? Non si vedono... Adesso sapete che facciamo... Prendo un... Guardate, non ci fate caso agli occhi che sono un po' neri. Prendo un pennello e proverò a fare un make-up con questa palette. Ho preso la mia attrezzatura, lo specchio e i miei pennelli. Andiamo a fare il nostro make-up. Prima di tutto copriamo le occhiaie con un correttore. Avon. Prendo un pennello biatto e prendo questo qui, il colore più chiaro. Mi faccio la base dell'occhio. Mi faccio la base dell'occhio. Mi faccio la base dell'occhio. Mi faccio la base. Ho fatto la base più chiara. poi faccio la coda con il marrone più scuro prendo un altro pannello io ti faccio come è musica io ti faccio come è musica posso darti come è musica si succede non continui Poi usiamo un colore più chiaro per illuminare. Non vedo! Non vedo! Doppione! Ho trovato un doppione mamma! Do una sfumata con il pennello più grosso. Se lo trovo. Diciamo che può andare. I colori che ho usato sono questo per fare la base, questo per fare la coda dell'occhio e questo qui per fare il davanti. I colori sembrano buoni. Per il prezzo che l'ho presa la pet è più che buona. Sto facendo come musica. 3,90 euro. Una è venuta in un modo, l'altra è venuta nell'altro. Non avendo una base d'appoggio stabile non è vero. Nicolò! Sto facendo? Non mi serve la base, sto parlando! Non avendo una base d'appoggio stabile non potevo fare di meglio, ma penso che per questa volta abbia fatto un discreto lavoro. Quindi, la palette io la promuovo. Questa la trovate in edicola, non so se è mensile o settimanale o giornale. Vi dico subito fino a quando lo trovate. Quindi è mensile, quindi lo troverete per tutto il mese di gennaio. Se la volete acquistare, vi costa solo 3,90 euro con Silhouette Donna. Spero di avervi fatto un po' di compagnia. Io non sono molto pratica con i trucchi. Non ho mai fatto un video di make up, quindi per me è la prima volta. Nicolò è il mio solito disturbatore. Adesso che deve venire a parlare non viene. Perché no? Sei arrivato. Hai aperto le figurine? Eh sì, le sto attaccando. Già? Sì. Ma dove ti vai? Vieni più in qua, così ti vedo. Hai trovato i doppioni? Eh sì, le faccio vedere. Si fa vedere i doppioni che ha trovato nelle figurine. Perché a lui non riflette la luce a me sì? Ancora è un mistero. Per ora sono questi due i doppioni che ho trovato. Quello dell'Ellas Verona. La squadra. E quello del Milan. E il giocatore del Milan. Io e Nicola vi salutiamo. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Vi diamo un grossissimo bacio. E vi aspettiamo sul nostro canale. Mettete un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina. E scrivete un commento. Dolcissimo. Detto questo vi diciamo buon Natale. E anche buon anno nuovo. E vi aspettiamo al prossimo video. Ciao. Ciao. No. 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 No.